Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della vanilla E oggi siamo con il nostro amico Tierno Gamers Ciao E oggi avremo una costruzione Costrueremo un magazzino gigante Yeah Vieni qua Tierno Gamers Qua abbiamo i blocchi Prendi Io vado a prendere del cibo Quello di legna Di Rovera Prendi la legna Rovera E iniziamo a fare il magazzino Voglio farlo di 18 x 18 1,2,3,4,5,6,7,8 posso fare due notari quassia ma perchè devo fare sempre il pavimento perchè sei bravo a farlo no io voglio fare anche un'altra cosa vuoi prendere una pala e togliere tutta questa terra qua c'è tutta la terra potreste dittarne a togliere io non ho una pala dove stai andando? a farmi una pala a farmi una pala ok tanto non c'è ok ci sono cose che non sono ma l'altro ho quasi finito un bloc di cosa? di questa qua dove scavi? scavo al centro no no qua ma c'è la cassa non importa io prendo questo e li faccio all'angolo ma c'è tutta la c rés ti veni amm-nooo uno uno due tre alla cibi voglio fare tutto di cinque nel momento puoi farlo lo faccio quale super visto scusa una pecora vabbè poi vedrai c'è ancora la non c'è più ah si vado a prendere un po' ragazzi pausiamo un attimo il video perché è una fatica prima per prenderlo tutto c'è una fatica ed è meglio non annoiarlo ok ragazzi ho preso un po' di l'angelo ho preso e io l'ho ancora finito qua mentre lui faceva il pavimento io prendo la luce mi ha preso un sacco così qua non devo rialdare vero ok ok da questa parte del muro è finito dai che finisce il pavimento così facciamo più veloce va bene ma tu cosa hai fatto sembra che tu non abbia fatto eh sto scavando ma noi ce la faremo lo stesso beh il pavimento potreste farlo se vuoi di un altro blocco di verso non ho altro legno non importa che dopo lo vado a prendere no ce l'ho altra legna scura ok vado ok ragazzi questo magazzino sembra gigante noi pausiamo il video e ci vediamo una volta che abbiamo fatto il tutto e ci vediamo una volta che abbiamo fatto il video e ci vediamo una volta che abbiamo fatto il video